Qui ci troviamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, precisamente siamo nell'hotel Bagnivecchi, sopra un antico ospitum balneorium romano. Per quello che non chiamano vecchi? Perché è vecchio? Perché prima era vecchio, adesso è un po' più rinnovato. Qui è sempre stato un posto di ospitalità e oltre a dare ospitalità però sia nel rifocillare le persone viandanti che nel dare alloggio, si trovava anche un dono che la natura ci ha fatto, che è proprio quello dell'acqua naturalmente calda, l'acqua termale che esce dalla roccia, della viva roccia. Esce calda? Esce calda, esce tra i 37 e i 42 gradi a seconda della stagione. Potrà farsi un tuffo nel benessere e un tuffo nella storia. È un tuffo nell'acqua. 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 È un tuffo nell'acqua.